bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi me l'avete chiesto in una mandria di persone proprio lo volevate sapere tutti paparapò finalmente ragazzi abbiamo il nuovo promo code del nostro ciccio camera 89 che ha gentilmente smadonato contro quelli da charged monkey facendosi quindi rilasciare un nuovo promo code e che ha gentilmente offerto ai suoi fedeli beh ragazzi io oggi voglio riproporvi questo codice per chi ancora non lo avesse inserito è un codice beosugoso perché ci dà un po di roba interessante ragazzi ma prima di dirvelo voglio ricordarvi di mettere un bel like ragazzi per questo video mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto mi raccomando like e iscrizione beh ragazzi beh direi che non abbiamo tempo di qui squigliare andiamo sempre cliccando in alto a sinistra sul livello del nostro giocatore dentro la pagina principale dedicata al profilo clicchiamo su codice promozionale ed andiamo a inserire fort key horde fort key horde diamoglielo un ok diamoglielo un altro attenzione 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 e conge ecco qua ragazzi 50 puzzi per noi e la bellezza di 100 gemmine beh ragazzi beh direi che questo promo code di ciccio è veramente veramente una bella manforte per il nostro profilo beh ragazzi il video direi che termina qua io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e vi rinnovo il nostro appuntamento con le live alle 14 e alle 21 noi ci vediamo presto ciao 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 ciao